La cosa più grave in assoluto è che ancora una volta l'amministrazione ha scelto di calpessare i propri cittadini evitando qualunque tipo di condivisione. Il centrodestra di Pesaro commenta così la notizia dell'installazione della maxiantenna nel quartiere Soria. Lega, Prima Cepesaro, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno deciso di presentare un'interrogazione urgente chiedendo spiegazioni ed eventualmente valutando anche di sospendere la delibera in attesa di maggiori informazioni. Abbiamo voluto raccogliere, hanno spiegato i consiglieri, le preoccupazioni dei tanti residenti che si interrogano sulla possibilità, in base alla concessione accordata, che in futuro sulla stessa struttura possano essere installati ulteriori antenne, parabole e sistemi RFM. Inoltre si vuole far luce sui criteri in base ai quali è stato individuato il canone di concessione e se sia stata effettuata un'analisi costi-benefici. Il tema è quello che, come al solito, l'amministrazione impone e non dialoga con i propri cittadini. Anche in questo caso è stata un'imposizione completa, il quartiere non è stato avvisato in nessun modo, neanche informato, non solo coinvolto. A questo punto l'interrogazione ha il valore di far sapere alle persone quali scelte ha preso l'amministrazione, come mai proprio in quella zona e soprattutto quali sono state le azioni che l'amministrazione ha eventualmente messo in atto per cambiare zona. Quella è una zona particolarmente spiacevole per installare un'antenna. Quali sono le iniziative che ha portato avanti l'amministrazione e quali sono anche gli studi che sono stati eventualmente messi in atto per tutto quello che è il tema della salute e della sicurezza e dei cambiamenti che porterà a quest'opera.